Supplico un estremo ripensamento, dice, e il discorso alla città nel giorno di Sant'Ambrogio. Vorrei riflettere con voi sul fondamentale tema del dialogo, vera e propria emergenza del nostro tempo. C'è bisogno di più luoghi di culto per tutti nella città, Islam compreso, scrive. Arrivano gli attacchi della Lega e non sarà l'unica volta. Infine in Duomo, il giorno di Natale,